allora qui tocca fare un po di pulizia perché si sono formate delle alghette in realtà tutta questa superficie era formata da queste piante galleggianti che ho già rimosso e ho fatto questo per procedere alla pulizia quindi ora sposto un attimo gli avanotti e pulisco la vasca sono abbastanza cresciuti infatti iniziano a starci un po stretti devo trasferirli appena possibile nell'altro acquario però ancora non è tempo bene ragazzi allora l'ho pulita guardate come linda adesso linda è pulita perfetta ora inserisco anche le piante galleggianti però prima devo mettere gli avanotti che sono questi ho dovuto fare un travaso facendo attenzione a non traumatizzare i piccoli comunque sono tutti perfetti e ora li inserisco di nuovo nella loro nuova pulita nursery come vedete pulita perfetta non c'è più nemmeno una alghetta ho rimosso tutto e adesso siamo pronti eccoli qui ecco qui perfetto perfetto via via scendete scendete vai ottimo perfetto non c'è più nulla benissimo ed eccole qui tutti perfettamente inseriti ovviamente devo inserire di nuovo le galleggianti li prendo direttamente da qui perché ce n'è praticamente un mare come vedete c'è praticamente un mare di pisti alimnobium un po di tutto insomma un bel mix e niente ora li prendo e inserisco nella nursery in modo da ridarli quella ambientazione che c'era prima un po' ombreggiata insomma come piace a loro sicuramente ed ecco qui nursery di nuovo perfetta io penso che a questo punto non la toccherò più perché tanto un altro paio di settimane secondo me sono pronti per essere inseriti nell'altra vasca sono abbastanza grandi possono stare anche con gli altri un po' più cresciuti per questo aspetto ancora un po' e nulla quindi per adesso va benissimo così ragazzi altra cosa importantissimo nursery per scalari assolutamente non quelle a rete morbida ci vuole un supporto rigido la plastica impedisce agli adulti di andare a attaccare e uccidere i piccoli perché sì signori la rete non impedisce ai grandi di ferirli a morte infatti ho provato a usarla è successo un vero casino un disastro quindi assolutamente supporto assolutamente rigido l'unica comunicazione sarebbe quella rete centrale lì che è la parte dove l'acqua praticamente dall'acqua dal ricircolo qui cade e ovviamente ricircola uscendo da qui questa rete centrale è una rete rigida non morbida come quella delle nursery che si acquistano quindi signori assolutamente supporto rigido così avete una sopravvivenza al 100% degli scalari bene per quanto invece riguarda l'artemia questo lo faccio vedere in diversi video in realtà comunque ho delle vaschettine dove utilizzo una luce con questa luce praticamente attiro tutti i naupli e come vedete ho diverse vaschettine ne ho una lì e altre due qui insomma sono tutte vasche a giorni alterni in realtà tipo lunedì martedì metto gli artemi qui mercoledì giovedì venerdì e sabato in questo modo ogni giorno ho disponibili artemi e saline tra l'altro le utilizzo anche per l'altra vasca questo qui il 130 dove ci sono degli scalari già cresciuti come vedete lo vedete praticamente i gurami non ci sono più ho dovuto fare un po' di modifiche alla vasca perché qui ci saranno tantissimi scalari incompatibili con i gurami quindi adesso ci sono già degli scalari di tre mesi e sono grandi già più delle rasbore come vedete e qui però ce ne sono soltanto alcuni perché già li ho dati via alcuni altri di scalari quindi ne sono rimasti quattro di questa dimensione perché voglio portarli allo stadio adulto mettendoli nel 200 litri e qui ci metto tutti i piccoli e chiaramente questi piccoli ora fra poco crescono saranno pronti per essere poi cresciuti nel 130 quindi insomma mi diverto a farlo non sono un allevatore professionista non li vendo ovviamente penso di regalarli oppure di portarli al negozio così senza impegno e insomma finché mi diverto questi sono invece tutti i scalari sono 6 sembrano stare bene comunque i nitrati sono a 0 direi anche per merito di questa questo lago di alleggianti insomma bene amici quindi grazie per aver partecipato a questo vlog scalari ogni tanto mi diverto a fare qualche video differente un po' più discusso un po' più così tipo vlog come fanno gli altri di youtube i vlog e niente spero vi sia stato comunque di aiuto utile con informazioni all'interno e noi ci vediamo con nuovi video come sempre ciao a tutti